Sono Albiera Antinori e sono presidente della Marchesi Antinori. I legami della nostra famiglia col vino risalgono al 1385 quando Giovanni Di Piero Antinori si iscrisse all'arte dei vinattieri e da lì nei secoli abbiamo sempre avuto un membro di famiglia che si è occupato della produzione vinicola soprattutto nella zona intorno a Firenze e in particolare in Chianti Classico. La mia soddisfazione più grande è vedere che dopo un anno di campagna viticola possibilmente con una stagione clemente si riesca a ottenere un vino che porti con sé tutto il suo carattere e rappresenti l'annata e che possa attraverso i viaggi che quella bottiglia farà portare con sé l'essenza della nostra terra nei posti più lontani. Rappresentare la 26esima generazione di famiglia dove la 27esima per fortuna è già in azienda è un onere, è un onore, è una responsabilità è una responsabilità nei confronti della terra nei confronti dei collaboratori nei confronti del mondo del vino è ovviamente anche un onore perché rappresenti tutte le generazioni passate che hanno fatto grandi cose.